amici di youtube, di facebook, di instagram, tantissimi auguri di buon natale già ve lo dico, questa sera si torna a vincere, si continua a vincere vi sto guardando un po' sta storia, amici di youtube, guardate, bella sto anche figurante a un po' sta storia, che prossimamente deve uscire un'altra comparsa dopo, subito dopo natale, va bene amici, se vince ancora in questa squadra straniera bella squadra straniera vedete, ho giocato 1 primo tempo e 1 finale e ho vinto altri 10 euro, amici dopo di oggi e papariccio, si continua a vincere anche con le squadre straniere, ho giocato 1 primo tempo e 1 finale e l'ho beccato, 2 a 0 il primo tempo e 3 a 0 il secondo tempo andate a vedere su book, che la trovate questa squadra straniera vedete la ma piccola, che è originale, è vincente ecco a voi e non è falsa si può dire sempre a vincere, la gelosia aumenta sempre di più e a me non me ne frega i gelosi possono stare a casa un bacio a tutti e contattatemi in privato che vincite anche voi ciao e buona serata vicino al mio arberello ciao